Immaginatevi l'inferno. Ecco, ora immaginatevi il paradiso. Questo è un progetto 25 hours hotel o 25 hours hotel che praticamente crea degli hotel che sono ispirati a un tema quindi se andate a Firenze potete soggiornare in questo 25 hours hotel che si ispira proprio alla Divina Commedia di Dante dove c'è la voce di Roberto Benigni 24 ore su 24 che narra i canti della Divina Commedia. C'è una camera ispirata all'inferno, c'è una camera ispirata al paradiso ci sono spazi comuni che sono favolosi.